Si è tenuto a Palazzo Lascaris il seminario Global Approach come strumento per affrontare migrazioni, asilo e cooperazione, organizzato dall'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, Federazione Piemontese, dal Centro di Iniziativa per l'Europa del Piemonte e dal Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino. I vari relatori hanno evidenziato la necessità di affrontare le tematiche legate alle migrazioni attraverso una visione europea e non solo per gli aspetti finanziari. Noi sappiamo benissimo che ci sono dei flussi migratori che pongono dei problemi sia alla frontiera italiana o alla frontiera dell'Unione Europea sia poi successivamente in termini di accoglienza e di asilo ma dimentichiamo che esiste un problema a monte, cioè le situazioni di crisi economica o politica che a loro volta generano i flussi migratori in Asia, in Africa, in altre parti del mondo perché sappiamo benissimo che il fenomeno delle immigrazioni oggi è un fenomeno mondiale.